Salve a tutti amici e bentrovati, sono i mostri di Terri ed eccoci qui per un nuovo episodio di Crusader Kings 3 con il nostro caro nuovo despota Teo che ha preso il posto del parere nel recente episodio pronta a continuare l'avventura di Enna e allora ragazzi, la situazione è un po' difficile perché ho avuto una guerra interna che mi avevo vinto grazie alla faccia e batteria qui nella zona di Catania, appunto di Bishop di Catania anche se deve sapere più qua, va bene e in caso di questa vittoria abbiamo preso subito l'ex duca di Calabria e catturando lui abbiamo vinto la guerra facilmente ora però abbiamo preso Malta, prendendo il nostro caro zio e lui si sposa, mi ha detto come una giovane maledetto comitas, io ti ucciderei io, là è lui il domino, spero che non si sposasse, ma in realtà si è sposato io devo darla a uno che aveva moglie vecchia vi lascio stare questo, abbiamo appunto il domini che aveva risolto dando tutto il nostro figlio ho trovato lui ora la conta di Bari, la zona di Serres e c'è a Benevento Napoli abbiamo dato il duca di Capua che era il fratello di quest'uomo che abbiamo dissere dato e abbiamo dato quindi il posto di mento ora a lui che è stata nostra moglie e avranno un figlio presto che sarà conto male del suo senso di matrione e non era matrioneare? Nicolai fosse matrioneare vabbè, poi abbiamo anche un buona possibilità di avere il duca di Piro perché nostra moglie, nostra sorella, Maria, è passata con il figlio del duca di Piro lui è il nostro Iterio e suo padre è appunto il duca di Piro contro un grande posto di mente e ha come rete il nostro caro Ioannes quindi la morte, lui diventa duca e magari si potrebbe portare i gobassi al regno di Sicilia se non siamo regni, lui è duca, bisogna sperare in cosa di buona va bene, direi subito inizio dell'episodio con un bel play abbiamo fazioni lui paga 190, ottimo abbiamo un evento da corte Salve reading, Maria, il despota e... che è la pancetta, direi, non che lo despota, eh? e il patriarca, c'è un problema sul cibo, penso dè, we find con Maria, with the book in her hand costa adesso, Piro's book of prayer, l'essenzioso novel, written century ha dei libri in mano I'm silent, while upon the properist reaction party of heracris and maria state this in my impression quindi, o abbiamo un confident lover piuttosto di attrattività di certa attrattività e non piuttosto di riarca o abbiamo un piuttosto di Maria io Maria voglio bene ha dei libri make disappear and pretend that soul's nothing make it disappear far sparire e non... non pretend di non vedere niente questo è il mio migliore spero che lei sia tranquilla il problema che è la corte non lo facciamo oppure vorremmo lasciare sta per ora perché il rischio è sempre che ti tocca i problemi ma per ora che abbiamo i problemi di domini è alto quindi deve aspettare posso fare moltissime guerre con il conto di Duca per vassalizzarlo addirittura questo non è male avremo un vassallo nel mio corte 1600 uomini perché? chiamiamo leati Arin nostra moglie e il Duco di Piro questo è ottimo una guerra così ci fa espandere in un contatto che è anche indipendente dall'impero diciamo bizantino quindi niente male andiamo un poco e infatti ottimo direi declare war force vassalizzazione mettiamo stiamo in pausa ok io partirei da Sicilia o da qui da Puglia da Puglia che è diretto o da qui al nord da quanto è il nostro figlio e partiamo da lì quindi mettiamo qui e un po' anche quando perdiamo si è preso 1 e 3 perdiamo tantissimo mi sa rise e insomma 0,3 5 Ducati lui giovane alla mia corte lui è un ottimo intelligente lui è ottimo 21 stewardship io puoi 600 e controller change la sua con te no 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 data di no 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 giovane alla corte tanti uomini di qualità di bisogno lei è incinta così debbotto perfetto allora si abbiamo qualche nuovo Ducato da dare al nostro no vabbè ora che devo conquistare ragazzi devo conquistare ho capito nonno però un generale mettiamo quest'uomo che è bravo nella corsa diciamo lui è scappato e questo devo fare una cosa mettiamo qui qui chi sono i nostri amici contro il betello per essere il nostro nemico penso eccolo qui facciamo da soli allora sono qui ah eccoli là e sono di seguirli che loro hanno unissimo 1300 qui abbiamo un piccolo vantaggio guarda come mi scappano guarda come scappate scappate ok sto scappando io vado qui a conquistare cambio generale il nostro uomo che abbiamo preso Jakov ortodos russo guarda che bello che è con la barbetta pionda e loro stanno lì a nord è stato davvero a nord non non ne ti da dire e ce ne sono scomparsi impara Greek bevamo per lui e loro sono di fermi aspetta io lo conto conquisto lo vassalizzerò se vuoi essere passato di meno prima evitare una guerra giusto no e allora il conto è con mitas che ho preso una figlia ho una figlia o meno male che è tratto heal not bad devo dire ma dove sono tratto heal da me eeeh antusa devo chiamarlo ma si ho che antusa come la madre no la madre fosse la madre no e che antusa forse mia madre ecco la nostra madre che sposa col duco l'imperato bizantino seguiamo lì abbiamo un vantaggio c'è un nostro vichingo great my mother vassal o che lui mi sa che mi ha tolto la cancelliera immaginavo mi ha tolto la cancelliera maledetto qui li pigliamo li sfuggiamo questi ragazzocci e andiamo a prendere la barna di scadar scusami a che ci siamo il puto non ci da niente quindi potremmo rilasciarle per soldi ransom for a favor non ci interessa grazie alleati non li chiamo sinceramente non ne ho bisogno ora che posso mandare le pito a fare un po' di pulizia però per andare da tutti i domini qui mi ha preso l'obbetello che sta qua mi ha un po' l'escato però vabbè l'obbetello è che è indipendente no se dubbi lo scan è che è stato il re di totalinger questo uomo è pericolosissimo ho preso qualcun altro adesso punto andiamo a mazzurriare per bene cambiamo l'uomo logistica reckless e aggressive attacker il maier che anche se è un doge non lo riceve mi sembra molto potente dopo 30 ore scappano non c'è soldi picchiali 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 perfetto siamo in vantaggio meno quanto perché meno 42 così però dobbiamo vincere noi cosa fate qui sono inutilità nei pikman vedete i pikman sono i migliori ma abbiamo vinto enforce di masso beat e abbiamo un nuovo assallo perfetto fa parte della nia sicilia e vimpio bizantino ma non ci interessa è che appunto abbiamo tanto 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 fatto bene ransom 30 dai no perché non mi da soldi ok 2 pavlos mi vuole bene si a questo punto scusami finisce siamo 100% va bene va bene va bene stocking store qua 15 ci da il tratto gasom più 50 questo è pessimo pane pepesani io sono fermo fra il pane o il salt in modo facciamo sicuro pepesani che c'è più opinione marshal è morto no no l'appare l'avevo appena arresto duca due calabria che è solo questo c'è il mio cugino gli volevo bene mi ero anche affezionato tanto a lui e vabbè allora qui ci mettiamo qualcun altro di buono a questo punto il mio eterio e qui ci mettiamo il contest di malta oppure ho detto lui un bel duca 23 scusate c'è il 23 che fa non lo faccio qua va a fare l'ordine a djack djack ok ora è sicilia benissimo e cosa qua ci da un bel vantaggio un grande vantaggio ramson 10 ok c'è un gran bel vantaggio petition leach un posto possiamo prendere console a point scrive un posto del concilio tipo stuasci mi piacerebbe guarda quello come è messo zaiato tutto comodo ok mi prende duca tiberio o capodocia from east concert ok e chi sapete duca tiberio di capodocia io sono migliore scusami eh grande ciao duca ciao capodocia va per favore aveva 9 c'ho 10 a 7 dove sta quest'uomo dove sta ma sta tizito facendo una regione piccola piccola e basta go to war contro atene che non è male perché se viene un giorno interale le nostre grazie insomma avremo un forte alleato o al massimo avremo alto procedimento rae so io divento reclusivo mi fa perdere anche se io esci più mi sembra dammi ring bleach spero non avrei problemi noi tu scappa scappa e io prendo la capitale di duca l'atena lui sta qui nell'armato ok però si vai 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 a fare qui ci serve assolutamente e con tanto c'hai figli no vabbè ha un figlio maschio ma vabbè tanta roba c'è tanto per prenderci malta e alla fine di questo sopia pure lui cose di pazzi cose di pazzi attenzione vetti apparent limitrature is briming with gold and silver and all spence arcade for as well the lord and spettif offre patronage to some kind or artist score quindi c'erano soldi facciamo dei patronage lui ci abbiamo teodosia e teodosia che non giù di russell e prender il tratto prestigio che mi dà in il garden ma cret da prestigio 1 con quest'uomo che ha un inventore di buona zia vediamo 200 portreggioso che non mi dispiacerebbe anche se abbia molta pietà devo dire moltissime 1.4 poi ci serve stefan che mi darebbe è found in another philosophy penso per diplomat learning e lui è uno shrewd migliore in tutto è ottimo però è pessimo dire se fare due migliore forse lui o lei più lui mi non che pietà ottenere il soldo facciamo questo uomo prendiamo 100 pigliamo Atene lui sta lì fermo nel frattempo se ci sta girare non sare male però va bene così perdiamo 5 ducati ok il nostro ring è un po migliorato però devo aspettare dove i nomi possiamo prostrarci dare gold perdiamo 100 nom di cash o no andiamo a fare io mangiare il nostro caro d'espo dando 100 ducati minare nuovo a me e opine del vassale più 154 prestigio lui sembra così dagli atomo questo è che regione autosso greco bone in purple quindi tutto bello e anche molto buono odio tiberio è nato che albino ok quindi abbiamo il figlio che è un po così piebbe in caso di successione in caso successione il nostro figuolo si è messina che gente non mi va bene questa cosa non mi va per niente bene mi sono conquistato un ducato l'otenge è questa espansa africa declare war vediamo come poterci muovere che non voglio assolutamente che perde la sicilia che è il nostro spostamento principale eh no ok penso è un nemico io andrei a aprire questo o andiamo in beozia andiamo dei beoti da qui da cui può venire il termine molto dispregiativo per il loro odio oddio si è rotto ma avendo un capolavoro impressionante questo mi piace quasi siamo altri sette mesi facciamo tutti cinque andiamo a chiedere ok possiamo antonio c'era 25 morichios c'era 10 e posso risolvere anche al patriarca noi stiamo facendo la guerra per il contripie che non fa niente è lì fermo che aspetta che vengono aiutiamo ma come liquida noi vieni prima che ti raggiungano no 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 non lui non sta lì a guardarci comunque intanto beote viene appunto da l'atenese che lo diamo tanto la beote che è a loro confine e disse tutto il teme stu con beote forse anche senta una guerra non mi ricordo non lo sapevo disse anche nella mia campagna del odyssey questo problema diciamo task finished ok fare il tuo lavoro come the 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 ci prendiamo tutto il territorio qui non aspetta non andare lì aspetta vai qui che meglio si perchè le torrenti sono ancora forti voglio evitare anche delle leve tutte le cose che fermati andiamo a pillere e pillo ma che sta fa fa con conquista va ok mi renda due ma mazzurriamo la grande devo dire non mi renda due le banner ah gli ho fregato the hour antenna oh prestigio leve più di 100 ecco the grand bonus più due no non distruggo me lo prendo che distrugge ma che stai distruggendo sta scherzando ma sta scherzando e allora quindi abbiamo due banner ora qui c'è anche una ancora di source reading questo parere che stanno prendo le scatole sempre alexander se nascondi il libro non ho visto niente e via scendo oh cotomize cotomize e per 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 3 posso mettere questo latinus banner che la conquista così dicendo che noi abbiamo conquistato un importante simbolo per gli atenesi magari questo ci sarà anche qualche claim chi lo sa dopo questo dire andrà subito a caccia ci ripete ancora stress se lo partiamo un po si 18 anche sono craven mi da poco maledizione qui abbiamo vinto ok disbandle abbiamo ricchezze di 2 di 7 e 6 ok stanno migliorando anche le nostre ricchezze meno male meno male posso fare qualcosa old court si da prima a fare così qua magari prima cosa di buono da se vogliamo parlare e allora il primo è my lord ha present the sicilian people of counter grigento bressita di cast giovanni un paese vicino a grigento a nome woman from palermo we we are devoted and fedeli ok so po under your bewilderment protection our land can still prosper and you stay share again new faithful vassal e allora con giovanni a ne do la grigento lei come sta di tre anni oppure per opinione io vorrei dare la grigento l'estate we blocked ok ma quanto ci da questo è difficile vediamo anche il cento e in più c'è il contratto che è bloccato la città perde di con di leve c'è il present presence city holding facciamo questo va oddio sto cosa ci direbbe più questo opinione è costantino quindi c'è opinione che c'è problema con costantino io lor ness i come here from cefalù facciamo questo sì c'è che già se stato non essere stressato ma conto stefani me with a spring in her step ma lì stefani same full of full outside I have a great idea that I can't brine your hated money of fame quindi l'idea she clears her proof before counting people do have a tendency to want that things they see let I don't have my that she has you to please your grandson son con lui così si si via tutto this is that Interessante Lei anche Ha dei buoni tratti Lui Lei accetterebbe E lui è l'erede Anche Genius Ma per lui Sì è uno figlio Forse Noi Prima di Genius Mamma mia Questi colazzo È Hill E anche Charming Sposatevi Sì La signora Mi ferma Grigian Ti verrà Bloccata Al me Fino che non si sposano Non è un'ottima moglie Ma almeno Così Punti Ma è bloccato Lì Eccellente E Però Cerchesse Ma il nostro Fivolo Oh Old Gord Gas Roto Ok Quindi c'è un attacco A Messina Grabe We have Two arms Ok Controllare Contra C'è Mino Shingle You can Centro Pietà Piccoli Pagano 110 Ah Ho preso Due Desportati Vallacchia Vallacchia Eh Mi frega Ma di lui Allora Appartiene Forse al Desporti Vallacchia No C'è Non è questo Sobrema Però Questo Semio Perché Qui Vediamo Tanto Vediamo Proviamoci Abbiamo Sbagliato Soldi Al Patriarca Why not Ci vuole Benissimo 92 Questo è Bello O No Prendiamo Prendiamo Un Ducato Conquistarlo Tipo Qui Durazzo E Un po' Se c'è L'Archest Claim Meno 6 Same gift Assolutamente 100 Ma dai Claim Di L'azzo Dove sta Perfetto Perfetto Il nostro Fio Siamo Qui Perfetto Perfetto Si Non mi interessa Se Chiedo Guarda a lui Dove è il mio Claim Potremmo fare Ope Adesso Non c'ho Claim O almeno Ce l'ho Io Claim Si Quindi Declare War Perché Perché Non posso Volare Guarda C'è Claim Scusami Ho portato Anche 150 Verso Claim Ramson Di 10 Vediamo se Possiamo Vassalizzare Questo Ragazzetto Dov'è La Vassalizzazione Mi sembra Nella Di Diplomazione Ricordo Male Ecco Forse Vassalizzazione Ce l'ho E quindi Perché Non mi fa Vassalizzare Questo Ragazzo Perché Ho Sono Principe Ecco Forse Vassalizzazione O De Jure Non mi andrei Vassalizzare Benevento Oppure Vediamo Se riesco Prima di tutto A fare guerra A quest'uomo Ora Non c'è caso Sbelli Non so Perché Io ho bisogno Il punto Di un Ducato Ho bisogno Di un Ducato E Durazzo La possibilità Che c'è Claim Perché Non mi fa Fare Le Caste Claim Ho Un Press Claim Su Durazzo Quindi Perché Ho Un Press Claim Perché Non mi Da Sto Claim Scusami Non vale Press Claim Non Un Poco Di Capire Allora Io ho Press Claim 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 Sono Io Un Press C'è un Pressante Claim Su Quest'uomo Quindi Perché Morendo Posso Vedercelo Con lui Non lo so Sato Che però Mi sta Stuffando Lepiro C'è lui Qui Con mia Sorella Che Non morimino Adesso Che Anche Fate Figli Perché Non fate Figli Maledizione Perché E Trollessuale E Morto Spry Master Teniamo Lui Che Un bel 21 Ma Anche 13 Mi Vuole Bene E Tu Vai A Fare Il Controllo A Messina E Sono Convertile Anche Qui Che Sono 14 Per 6 Anni E Ho Questo Claim Però Non Me Lo Da Non Lo Capisco Non Lo Capisco Per Niente E Allora Andiamo Fare Qui Arm Footman Andiamo Al massimo A 5 Almeno Qui 5 Va Bene E Anche Qui Non Penso Qui Si Ok Vino Tutti i soldi Per migliorare Nostra C'è al massimo Posso creare qualche Probe Lui Weimar Is My Leage Is Attack Tuscali Appilla In The Palace Con C'è Weimar Scusa Che Sono Un Mineterio Quindi Possiamo Punirlo Is Spurring As Show I Made Is Semple Ah Mi Ho Copiare Lui Che È Un Sempio Di Pietà E Così Comitarebbe Più Dici Di No Mino Pin La Salute No Salute La Salute No Se Lo Banno Non Lo Voglio Proviamo Dai Su Però Devo Faire Di Lo Stress La Presta Posso Rifare Dopo Il Duca Di Calabria È Felicissimo Mentre 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 Io Sono Tola Salute Lui Non Mi Interessa Perché Ave Già Tutto Il Duca Non Sola Botta 250 Mi Costa Mi Costa Di Più Però Non Non Mi Ci Vole Conquistare Ma Che Mentre Declare War Questa Leve Lui Sta Qui Io Andrei A Mettermi Qua C'erano sempre Le leve Già pronte Rise O Io Che Non Ci Arrivino Prima Ma Non Penso Adelchi Quarto Mi Spiace Ma Questa È Guerra Puglia Che Anche La sua Capitale Altrani Per Di Operotto Attenzione Questa È Tutta Cosa Iniziali Di Super Loro Esercito Così Da Mazzugliarlo Ecco Qui Meno Undici Allora Il Buono C'erano Loro Più Di Miei Mi Fatto Un Disband Perfetto Dammi 50 E Arden Dammi 10 Prendiamo La città Di Trani E Contro Dammo Trani E Ducolo Di Benevento Il Nosso Figlio Albino Che Fosse Mi Mi Tanto Oh Perfetto Conto Ecco qui Picco Magistos Che È Un Erzavuli Ma è Un Conti Mates Ottimo Direi Davvero Ottimo Così con lui Avremo Magari L'epiro Chi lo sa Qui si Combat Ci ha Provato E Architetto Potrei Scegliere Un Tatto Oppure No Dread Gain Merge Antifest Cost Meno 30% Questo Non è male È Pugupine Più 5 Tidale Cresce Meno 20% Così Andremo Anche A Bessere Ancora Di Più Perché Con La Cattura Greca Paghiamo Poco Pure Questo Enforce Di Masso B Hit Vediamo Qui La Sicilia Tutta Si è Presa Disband All E Correndo Già Lui Sì Subito Benevento Il Ducato Si Pia Solo Questa Parte Qua Durazzo 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 Lui è Morto Ma c'è Un Claim Scusami C'è Un Claim Non Capisco C'è Claim Su Durazzo Usurpiamo E Non Possiamo Perché Non Capisco Fatto I Claim Tarese Vole Un Posto Lui È Ottimo Stewardship Poi Sfighe Migliore E Lo Proviamo Mettere Magari No Lì C'è Non Sola Marshal No Ma Questa Grigento Dalle Vole Un Posto Signori Però Anche Arrivata Già Vole Un Posto E Proviamo Cambiare Mai Quest'uomo Qui Perdiamo Tanto Marshal Ma Però Mettiamo Lui Per Ora Tre Anni Ok Tre Anni Per Fortuna Non Cambia Tanto E Possiamo Lui Ed Non Sperate Si Piglia Tutto Lui E Allora Come posso Sistemare Mifiguolo L'Eno Prici Feste Euphoria Di Non Benissimo Già L'Epinessa Di Capua Ottimo Due Di Capua Mentre L'altra Sola Sorella Penso Potrebbe Essere Duca De Piro Se il padre Ci lascia Il prima Possibile Proviamo Ucciderlo Magari No No La Guerra De Acaia Duca De Acaia Non posso Fargli Guerra Almeno Tant'è Quella Fatta Kim Gemma Di Bulgaria Per Cosa Duca Conquest Siamo Pari Come Forse Però Non Conviene Zanivor No King Lothar Ninja Il De Jure Sul Camarda E Mort Il re Quindi Un po' Più Deve Però Siamo Sempre Deve Come Uomini L'Emito 2 5 Uomini Poi Poi Non Poi Agli Emilia Per Un Ducato E Magari Il Se Si Che Quella Lui Per Ducato Oppure Si Può Attaccare Il Gitto Penso In No Perché Distante No Per I Claim Poi Poi Fai Quella Così Perché Piccoletto Però È Un Ducato No Distante Spoleto Attenzione Forse Fassalization Abbiamo Pure Questa Possibilità Ora Va Sendo Spoleto Ancona Ragazzi Noi Ci Spenno Tantissima Sardegna E Mille Uomini Come Non Cazzo Bello Passalizzare Off Fassalization Meno 300 Vabbè Ragazzi Io ho qui Questo video Di oggi Con Tante Possibilità Come Poterci Muovere Sare fatto che Però Il nostro Domino Diretto Ed è Molto Grande Tutta Qui Salonica Magari Fare Quella Lui Abbiamo Cresso Sul Durazzo Che Però Non Ci Costa Cioè Non Ricciamo A Fare Guerra A Quest'uomo Avendo Un Reclaim E Non Cresco Bene Perché Lepiro Sta Qui Lepiro È Un Possibile Acquisizione In quanto Il figlio Duca Lepiro È Solo Nostra Fì Sorella Sì Anzi Mia Figlia E In più Il Marino 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 Ci Deve Costituito Di Un Contomanzi Nel Pino Magari Passerà A Noi Il Duca Farà Il Suo Il Lei Fai Suo Abbiamo Anche Un'altra Sorella Che Sta A capo Abbiamo Un Figlio Un'altra Figlia Che Un po Come Antusa Come Poterla Sistemare Abbiamo Anche Il Nostro Figlio Che Potentissimo Forse Di Noi Che Ha 4 Mi Suo 8 Ma Di Suo Tutta La Puglia In Pratica E Qual Genere Della Grecia Nord Orientale Ha Due Figli Pulinte Genius Mamma Mia Mamma Mia Ragazzi Mamma Mia Mamma Mia E Poi C'è Questo Otto Fili Sistemale Che Però Si Pierebbe Palermo In Sicilia Non Mi Va Bene Perché Rende Capita Andrebbe Qui A Puglia Che Si Bella Toglia Lui Il Ducato Se Possiamo Rievocare Non Posso Togliere Niente Non Posso Togliere Niente Peccato Non Posso Togliere Niente Quindi È Un Po Problematico Il Interna Di Reta Comunque In Vi Lascia Un Like A Commentare E La Vostra In Che Sono Avete Fatto Iscrivete Al Canale E Attivare Campanellina Notifiche Non Video Che Usciranno E Seguimi Su Cane Viola Live E Su Social Come Facebook Instagram Tiktok Così Per Sare Di Più Su Il Lavoro A Contenuti Utiliali E Su zus Su 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 Autore dei sovrapposti